C'è un vero che è molto più importante, lo dice uno che non ha nessuna carica istituzionale, nulla da difendere, ma di cosa parliamo? Oggi mi è arrivato un messaggio di un mio amico che sinceramente mi ha sorpreso perché votava per il sì, dove mi diceva proprio questo, banalizzava sul fatto che ogni senatore ci costa 250 mila euro, finalmente stiamo eliminando 315 senatori, ma stiamo parlando di cose importanti e banalizziamo con questi mezzucci. Non sono dicendo un'altra cosa, i senatori sono dicendo. Stanno festeggiando. Noi intanto festeggiamo qui nel Salento perché con questa riforma se fosse passato il sì sarebbe stata la morte definitiva di questa terra.